Salve amici di Arena Sportiva, andiamo a vedere gli episodi arbitrali della settima giornata. Sabato tranquillo, nulla da segnalare per le tre partite che erano Bologna-Empoli 0-1, arbitro Volpi di Arezzo, Spezia-Samadori 2-1, arbitro Sozza di Seregno, Baroni di Firenze per Torino-Sossuolo 0-1, dunque nulla da segnalare qui. Passiamo alle gare di domenica, primo episodio alle 12.30 di Udinese-Inter 3-1, ci sono state proteste plateali dell'Inter sull'autogol di Skriniar, più che altro dell'1-1 dell'Udinese, per una spinta su Zeko, ricordiamo la spinta non è episodio da VAR, perché la decisione spette soltanto esclusivamente al direttore di gara, che era Valeri di Roma, e per me è troppo poco, anche per Valeri era troppo poco quella spinta, dunque giusto concedere il gol all'Udinese. Alle 15.00 Cremonese-Lazio 0-4, l'arbitro era Orsato di Schio, anche qui un arbitro esperto, un arbitro internazionale, e qui c'è soltanto a segnalare al 21.00 il rigore netto, mani larghe, quindi occupa più il volume del suo corpo, Locosvili sul tiro di Ciro Immobile, richiamo del VAR. Calcio di rigore, ottimo la gestione anche della squadra VAR di Orsato, dunque calcio di rigore, a mio parere però è un episodio da Spa, quindi per me, ma anche il giallo Locosvili, dunque io avrei dato anche il cartellino giallo, Orsato no, Orsato ha sicuramente più esperienza. Però non vado a contestare quel giallo, però è giusto che non si sappia, per me è giallo. Sempre alle 15.00 Fiorentina-Lazio Verona 2-0, qui era l'arbitro Rabuano della sezione di Rimini, soltanto anche qui l'episodio al 26.00 per la trattenuta di Coppola su Iconè, qui altro episodio da VAR, infatti è qui, trattenuta, calcio di rigore per la Fiorentina e cartellino giallo, impeccabile la gestione di questo episodio, anche sia tecnico che decisionale da parte dell'arbitro, perché il giallo ci sta tutto, e quindi poche anche le proteste da parte dell'Ellas Verona, rigore poi sbagliato da Biraghi. Sembra alle 15.00, Monza-Juventus 1-0, l'arbitro qui era il signor Fabio Maresca di Napoli, tra l'altro un mio caro amico, è giusto il rosso ad Angel Di Maria, quindi fallo di reazione su Armando Izzo, comitato al Bocca dello Stomaco, quindi calcio, cioè rio rosso diretto giustissimo, qui poi bisogna vedere se l'arbitro sul referto scriverà per condotta violenta oppure per comportamento disportivo, e qui si deciderà se le giornate poi siano due o tre, ma almeno due li prenderà, quindi salterà anche il Milan Di Maria. Alle 18.00 una gara un po' più complessa, quella tra Roma-Atalanta finita 0-1, l'arbitro era il signor Chiffi di Padova, chi mi conosce sa la stima che non porto nei confronti di Chiffi. Qui mancano due gialli per due falli identici di entrambi di Deron, prima su Zagnolo, poi su Pellegrini, entrambi erano ripartenze, quindi entrambi erano spa, e quindi entrambi erano potenziali e occasioni da rete, quindi per me erano due gialli, lui non ne fa neanche uno, non ne becca uno in quell'episodio, va bene così. Cioè va bene no, però purtroppo è un errore quello che fa l'arbitro Chiffi. Quarto e quarantesimo minuto, trattenuta di De Miral su Zagnolo, giusto qui non fischiare la calcia di rigore per la Roma, perché una trattenuta poi De Miral lascia, Zagnolo si rialza e inizia a perdere tempo, poi perde il pallone, lì poi l'arbitro non può più dare il calcio di rigore, quindi mio parere ha fatto bene in questo caso. Chiffi non ha fatto bene invece al cinquantacinquesimo minuto, dove si è rotta tutta la partita, che ha scaturito poi la successiva espulsione, l'ontanamento da campo da parte di José Mourinho, perché l'espulsione ci sta, perché Mourinho entra in campo, discute con Atebor, ora le parole non le posso sapere, io cosa si sono dette, però... l'espulsione di Mourinho è giusta, la decisione prima, io davvero non l'ho capita, non so che si siano detti con il VAR, perché la trattenuta di Ocolì su Zagnolo è netta, calcio di punizione al limite dell'aria, non era rigore, per la Roma, poi si è parato col VAR, ha dato addirittura punizione per l'Atalanta, lì mi sa che neanche i giocatori dell'Atalanta hanno capito, io onestamente non ho capito proprio nulla quella decisione, perché a me sembrava chiaro, calcio di punizione per la Roma, è giusto il rosso a Mourinho, abbiamo detto, quindi va bene così. Alle 20.45, Milan-Napoli 1-2, l'arbitro del signor Mariani della sezione di Aprilia, diciottesimo e quandantacinquesimo, giusti gialli per falli, entrambi su Kvara-Svelia, da parte di Chiara e Calabria, giusto anche il rigore dato al Napoli, per fallo di Serginio Dest, sempre sul Giorgiano del Napoli, non mi dite niente, ma il nome è impronunciabile, lui tocca il piede, quindi va bene così. Questi sono stati gli episodi, io vi auguro una buona serata, e arrivederci.